Sì lo so arrivo con enorme ritardo rispetto a quelli che sono i miei standard per questa rubrica ma vi devo dire che in parte non è neanche colpa mia perché Netflix ha ufficializzato tutte quelle che sono le uscite di gennaio soltanto davvero nelle scorse giornate nelle scorse ore inizialmente sembrava addirittura che non ci fossero delle nuove uscite poi ne sono state pubblicate soltanto due o tre adesso per fortuna il quadro è completo e quindi posso realizzare quella che è la canonica rubrica la canonica puntata della rubrica di consigli appunto sulle uscite nella piattaforma streaming Netflix per quanto riguarda il mese di gennaio però prima di iniziare io come sempre vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale perché è il modo più semplice e rapido che avete per poter supportare il canale e poi se il video vi sarà piaciuto lasciate un like commentatelo con le vostre opinioni sui film che andremo ad elencare oggi condividete il video ovunque vogliate e poi in descrizione vi ricordo che potete trovare anche i link della mia pagina Instagram della mia pagina Facebook del mio canale Telegram quindi se volete mi potete seguire anche lì vi chiedo scusa ancora per quanto riguarda la voce che non è particolarmente brillante ma spero di recuperare il prima possibile da questa brutta influenza che sta colpendo il mondo intero probabilmente ma bando alle ciance passiamo a quella che appunto è la puntata di oggi per i consigli per quanto concerne Netflix oggi vi andrò ad elencare sette film che appunto sbarcano nella piattaforma di Netflix durante il mese di gennaio anche se poi in realtà i film che vi andrò ad elencare sono già presenti su Netflix da alcuni giorni quindi in realtà non ci sono nuovi arrivi tutti quelli che vi andrò ad elencare li potete trovare appunto già nella piattaforma come sempre vi ricordo che non è una classifica non è una top sono dei consigli che do sia a voi ma anche a me stesso nel senso che alcuni di questi film io in realtà potrei anche non averli visti però ecco in qualche modo voglio porre l'attenzione su questi titoli anche perché anche per il sottoscritto magari potrebbe essere l'occasione giusta per dargli un'occhiata soprattutto anche ascoltando magari le vostre considerazioni i vostri pareri qui sotto nei commenti per quanto concerne i vari film che vi andrò ad elencare quindi vi faccio sempre queste piccolissime premesse questi piccoli preamboli anche per rispondere a chi nei commenti mi dice doc perché consigli dei film che non hai visto come sempre vi dico sono dei consigli ma sui generis sono consigli che do a voi ma sono dei consigli che do a me stesso quindi sono dei modi come sempre per fare il punto della situazione su quelli che sono appunto i nuovi arrivi nelle piattaforme allora innanzitutto voglio partire con il film wonder un film di ormai qualche anno fa una pellicola che ha tra i protagonisti Owen Wilson e Julia Roberts poi c'è anche l'attore il ragazzino di cui in questo momento non ricordo il nome in realtà mi dispiace eventualmente ci aggiorniamo nei commenti è il film che appunto racconta la storia di questo ragazzino costretto purtroppo a fare i conti con delle problematiche fisiche a livello facciale soprattutto che lo porteranno a doversi confrontare con lo scetticismo la cattiveria anche dei suoi compagni di scuola con il rischio chiaramente anche di essere isolato poi la cosa si diciamo la storia si svolgerà in una maniera particolare avrà comunque la possibilità di farsi conoscere di farsi apprezzare grazie anche al sostegno dei suoi genitori un film che non rappresenta sicuramente il capolavoro dei capolavori ovviamente no con due bravi protagonisti come Owen Wilson e Julia Roberts appunto nei panni dei genitori e tra l'altro proprio in queste settimane in questi giorni ora non so in realtà non mi ricordo precisamente quando ma dovrebbe arrivare o è arrivato a seconda di quando pubblicherò questo video anche White Bird Wonder White Bird che si configura come una sorta di sequel di quello che appunto era il film Wonder di qualche anno fa anche se poi in realtà da quello che si vede dai trailer la storia è completamente diversa quindi si prende come spunto di riferimento la storia di un compagno di scuola di quel ragazzino per poi narrare appunto qualcosa che va come dire ad affondare le radici anche nel passato però ecco piccola parentesi per quanto riguarda invece il film Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson lo trovate già su Netflix a partire dal primo dell'anno dal primo di gennaio film che mi sento appunto di consigliare un altro film che è già presente nel punto nel catalogo Netflix a partire dal primo di gennaio è Modi una vita a colori film con Ethan Hawke e con Sally Hawkins nei panni tra l'altro di Modi Lewis una pittrice caratterizzata tra l'altro una storia vera quindi una vera pittrice una vera artista che era caratterizzata dal fatto di avere delle disabilità credo fisiche non vorrei sbagliarmi sarei come dire sto facendo appello alla mia memoria che in qualche modo lavorava anche da domestica viene assunta appunto come domestica da quest'uomo interpretato da Ethan Hawke il quale però lentamente comincia a innamorarsi di questa donna e anche della sua capacità di affrontare la vita nonostante la disabilità anche dimostrando di avere un genio artistico fuori dal comune film che purtroppo ancora non ho avuto la possibilità di vedere è del 2016 2017 quindi già di qualche anno fa però già la presenza di attori del calibro di Ethan Hawke da una parte di Sally Hawkins mi incuriosisce quindi chissà appunto che non avrò la possibilità di dargli un'occhiata e quindi Modi una vita a colori lo potete trovare su Netflix già a partire dal primo dell'anno dal primo di gennaio quindi secondo consiglio di questa carrellata di sette film che vi sto elencando sempre dal primo di gennaio potete trovare su Netflix zona d'ombra film con Will Smith e Alec Baldwin tra gli altri anche questo è un film tra l'altro che trae spunto da una storia realmente accaduta da un personaggio realmente accaduto interpretato proprio da Will Smith è un neurologo nigeriano di che diciamo una ventina di anni fa più o meno ebbe la possibilità di scoprire la correlazione tra quelle che erano le costanti traumi subiti dai giocatori di hockey in quella che è la lega NFL se non ricordo male americana e la comparsa di una patologia degenerativa neurologica che fino a quel momento risultava essere quasi sconosciuta tra l'altro la correlazione venne dimostrata non senza difficoltà chiaramente anche per il fatto di andare contro la lega di hockey quindi tutta una serie di come dire grandi capoccia della lega di hockey in qualche modo ostacolarono il lavoro di questo neurologo poi in realtà la storia è andata avanti come la conosciamo e cioè la malattia è stata effettivamente dimostrata è stata effettivamente tra virgolette scoperta quindi non c'è granché da spoilerare però ecco un film che non mi fece impazzire ora non è che stiamo parlando anche in qui di un film di qualità elevatissima però era interessante soprattutto proprio per le caratteristiche come dire scientifiche anche se poi non è che venissero approfondite particolarmente che appunto venivano raccontate nel film una prova abbastanza buona da parte di Will Smith diciamo che nel corso degli anni Will Smith ci ha regalato ben di peggio Alec Baldwin appunto in un film biografico che in realtà non so quante libertà si sia preso però come dico sempre sti cazzi non è sempre importante avere la fedeltà al 100% in un film che io comunque mi sento di consigliarvi anche questo appunto a partire dal primo di gennaio lo trovate su Netflix quindi zona d'ombra sempre il primo gennaio è sbarcato su Netflix il film l'anime voglio mangiare il tuo pancreas un film molto particolare ora tanti potrebbero dire sì è un film come quelli dello studio Ghibli che è facile fare il paragone in questi casi ma in realtà è un film molto diverso è ovviamente un anime un anime quindi un film d'animazione giapponese è una pellicola molto molto particolare anche per la storia che viene raccontata che in qualche modo si rifà a tutta una serie di credenze di leggende anche del mondo orientale perché perché il pancreas è considerato come un organo quasi mi vorrebbe dire sacro da parte delle popolazioni orientali è il mangiare il pancreas di una persona che muore permette in qualche modo alla persona che lo mangia di far entrare l'anima di quella persona al suo interno e di farla vivere per sempre ed infatti è un po' questa la storia di questo film con un ragazzo che si innamora di una ragazza purtroppo affetta da una malattia terminale a caso appunto di un male al pancreas è la loro storia d'amore la loro storia anche d'amicizia in realtà prima e la loro relazione va avanti proprio con questa promessa ora non vi voglio svelare altro è un film tra l'altro delizioso quindi vi consiglio caldamente di guardarlo nel caso in cui non doveste conoscerlo ripeto non vi aspettate anche qui i film dello studio Ghibli perché è facile ripeto fare il paragone è qualcosa di diverso ma comunque non meno non meno interessante quindi voglio mangiare il tuo pancreas anche questo a partire dal primo di gennaio lo trovate su Netflix procediamo poi con un film che io in qualche modo ricordo di aver visto però non è che ne abbia una memoria ben chiara in mente dovrei rivederlo ed è Father Stew un film che anche questo è presente su Netflix a partire dal primo di gennaio una pellicola che ha Mark Wahlberg come protagonista principale un pugile o meglio un ex pugile in realtà che a causa poi di problematiche di salute decide in qualche modo di convertirsi al sacerdozio cercando di rendersi utile anche per le altre persone ripeto è un film che io in qualche modo sento di aver visto qualche anno fa perché è un film di un paio di anni fa però non è un gran cioè non ho memoria non ho ricordi nitidi quindi questo significa che non mi ha colpito in pieno devo dire nonostante il fatto che ci sia un pugile come protagonista battuta però ecco è una pellicola che mi sento in qualche modo di segnalare soprattutto a me stesso perché magari mi concederò un rewatch proprio per andare a spolverare la mia mente dalla polvere che la circonda e magari appunto ci sarà modo di riparlarne nel frattempo appunto ve lo segnalo Father Stew a partire dal primo di gennaio lo trovate appunto su Netflix procediamo con il penultimo consiglio ed è un film ormai di una ventina forse anche di più di anni fa ed è Stuart Little un film che trovate su Netflix anche questo a partire dal primo di gennaio è un film con ricordiamolo una tecnica mista tra chiaramente il topolino animato con la CGI dell'epoca che tra l'altro non era neanche particolarmente malvagia devo dire e poi chiaramente è un film in live action con tutti i protagonisti chiaramente con i personaggi reali tra l'altro ricordo la presenza di Hugh Laurie tra i personaggi principali era il padre di famiglia e poi c'è questo ragazzino che fa amicizia con questo topo tra l'altro ricordiamo lo topo che è Stuart Little che era doppiato da Luca Laurenti e con il personaggio invece del gatto che era diciamo una sorta di villain della situazione invece doppiato da Paolo Bonolis chiaramente una coppia artistica della televisione che va di moda anche oggi perché in realtà sono presenti anche oggi in tv ma vent'anni fa ancora di più quindi venivano erano stati scelti proprio per doppiare questo film è un film chiaramente senza grandi pretese un film quasi mi verrebbe a dire indirizzato ai bambini e ai ragazzini però ecco soprattutto per chi è cresciuto tra gli anni 80 e gli anni 90 e lo ha visto da ragazzino magari potrebbe essere piacevole andarlo a rivedere quindi Stuart Little a partire dal primo di gennaio lo trovate su Netflix ed infine voglio chiudere questa carrellata di sette consigli con quello che è l'unico film inedito tra tutti quelli che vi sto elencando ed è La società della neve già presente anche questo a partire dal 4 di gennaio su Netflix ed è un film che un po' come ho detto anche per altre pellicole che ho citato poc'anzi si rifà ad una storia realmente accaduta e cioè quella che è stato l'incidente aereo delle Ande negli anni 70 agli inizi degli anni 70 tra l'altro un incidente che è stato già portato al cinema una trentina di anni fa se non ricordo male negli anni 90 dal film Alive potreste averlo visto magari io ne ho un ricordo sbiadito perché ricordo di averlo visto non quando uscì al cinema ma qualche anno dopo poi non l'ho più rivisto per tanto tempo dovrei rivederlo però ecco nel frattempo è arrivata questa nuova trasposizione di questa storia chiaramente tragica, drammatica nella quale appunto una storia nella quale si dovette fare i conti con la presenza di diverse persone morte proprio a causa di questo isolamento estremo nelle montagne delle Ande in seguito all'incidente poi non vi voglio svelare altro per quanto riguarda la storia stessa non voglio spoilerarvi nulla per quanto secondo me ci sia poco da spoilerare soprattutto se avete visto il film degli anni 90 però la società della neve voglio la società della neve credo sia si aspettate la società della neve sì non delle nevi l'ho scritto qua in un fogliettino ma la società della neve la trovate appunto a partire dal 4 di gennaio su netflix quindi un film del quale sto sentendo dire non dico un gran bene però ne sto sentendo parlare positivamente quindi potrebbe magari potrei magari ritagliarmi un paio d'ore per guardarlo nei prossimi giorni e chissà magari anche parlarne qui nel canale se lo avete già visto chiaramente fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate come del resto anche di tutti gli altri film è così chiudo quindi questa carrelata di consigli per quanto riguarda le uscite di gennaio su netflix fatemi sapere il vostro parere appunto sulle pellicole che vi ho elencato se le avete viste se vi sono piaciute se non vi sono piaciute ovviamente fatemelo sapere pure qui sotto nei commenti perché come sempre vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri quindi ci becchiamo qui sotto io vi ringrazio come sempre per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella così non vi perderete i prossimi contenuti lasciate un like se il video vi sarà piaciuto commentatelo condividetelo ovunque vogliate vi ricordo in descrizione trovate un link a amazon da poter usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon a sottoscritto trovate anche una wishlist amazon se volete farmi un regalo trovate anche i link della mia pagina instagram della mia pagina facebook del mio canale telegram se volete mi potete seguire anche lì e poi ci sono anche delle modalità per fare delle piccole donazioni al canale qualora lo vogliate io vi ringrazio nuovamente vi do l'appuntamento ad un prossimo video ad una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro anche una buona continuazione di giornate e ci vediamo presto ciao a tutti